bene benvenuti in una nuova lezione di italiano per tutti oggi vediamo un tipico dialogo al ristorante cosa si dice quando si prenota e quando si va al ristorante allora faccio subito notare che quello scritto in blu è quello che va al ristorante quindi il cliente il testo scritto in rosso è il testo dell'operatore di segreteria diciamo del ristorante o del cameriere poi stesso durante il discorso quindi iniziamo leggendo buongiorno vorrei prenotare un tavolo per quattro persone per domani sera d'accordo va bene per le otto e mezza preferirei per le otto va bene facciamo per le otto mi lascia un nome oppure mi dà il suo nome certo sono giuseppe verdi perfetto e il suo numero di telefono 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 grazie a domani grazie a lei arrivederci questo è il discorso che si fa prima di arrivare al ristorante quindi all'atto della pronotazione la seconda slide ci mostra un gruppo di persone che arrivano al ristorante invece e non hanno prenotato cosa può capitare cosa si può dire al cameriere all'arrivo al ristorante infatti buonasera un tavolo per quattro oppure siamo in quattro avete prenotato sì abbiamo prenotato per le otto oppure no non abbiamo una prenotazione c'è da aspettare 15 minuti ho un tavolo libero un tavolo libero fra 15 minuti prego seguitemi al tavolo quindi questi sono casi in cui posso aver prenotato oppure posso non aver prenotato e devo il cameriere mi darà un tempo di attesa prima di potermi sedere al tavolo disponibile terza slide ordinare al tavolo quindi mi sono seduto il cameriere può portare il menù può portare la carta dei vini ecco il menù signori siete pronti per ordinare sì io vorrei gli spaghetti alle vongole per me una pizza capricciosa e io prendo una feittura mista da bere cosa volete che cosa prendete cosa vi porto queste tre sono tre esempi distinti per me acqua naturale io vorrei una birra in bottiglia io prenderei un bicchiere di vino rosso volete qualche antipasto desiderate qualcosa come contorno un antipasto misto da dividere ecco è tipico nella cucina italiana magari anche all'estero prendere un piatto unico come antipasto o magari anche come secondo magari come primo può capitare anche se raramente da dividere significa che ognuno da questo piatto prenderà qualcosa però dovrebbe essere una formula per ridurre il prezzo per ridurre la quantità quando proprio non si vuole ognuno prendere ad esempio un antipasto prende ognuno contorno altra slide durante il pranzo o la cena buon appetito grazie altrettanto si dicono tra le persone che mangiano volete assaggiare se qualcuno ha preso qualcosa di diverso propone agli altri mi puoi passare il sale o mi puoi passare l'olio o mi puoi passare il pane cameriere può portarmi un'altra birra cameriere potrebbe portarmi il pane posso avere un'altra forchetta un altro coltello o un altro cucchiaio certo desiderate altro signori posso portarvi la carta dei dolci vorremmo due dolci e due caffè per favore questo è il passaggio la slide di passaggio mentre si mangia e mentre si termina di mangiare dopo aver finito quindi al termine per favore ci può portare il conto certo volete un conto unico o conti separati quindi si può decidere se sono veramente tanti amici ognuno vuole pagare quello che ha ha consumato oppure un conto unico paghiamo alla romana è un termine tipico italiano dire paghiamo alla romana per dire che si prende il conto unico e indipendentemente da quello che ognuno ha consumato si divide per il numero delle persone che erano al tavolo quindi ognuno pagherà una parte anche degli altri indipendentemente da quanto ha mangiato o no ecco il conto signori dice il cameriere possiamo pagare con la carta di credito mi dispiace accettiamo solo con tanti va bene se paghiamo con un assegno certo un assegno va bene grazie ok e questo era l'ultimo passaggio questi sono esempi per imparare come funzionano i dialoghi durante delle situazioni tipiche in italiano alla cena in questo caso poi ne vedremo altri io vi consiglierei ascolta riascoltate la lezione fermatela ripetete le frasi dopo che le ho ripetute io e se avete dubbi scrivete i vostri commenti sotto nel nel canale se ci sono critiche se ci sono altre proposte per altri per altre lezioni ben venga vi ringrazio e mettete un like ciao alla prossima